Ho ritenuto che fosse più bello poter riunire tutte le opere in un solo ambiente e metterle a disposizione dei cittadini, soprattutto quelli di Salerno, del rione Carmine. Certo, ma anche per i bambini? Per i bambini, indubbiamente. Infatti questa mostra, adesso che faremo l'introduzione, la voglio dedicare soprattutto ai bambini diversamente abili, in particolare gli autistici. Una Madonna come protrettrice di questi bambini. Questa è una cosa che adesso fra poco dirò. Quindi vuole essere un'occasione per celebrare la Madonna, non tanto per fare una mostra pittorica, perché il soggetto è la Madonna, quindi una celebrazione, una seconda festa e la Madonna del Carmine.